Giorgio Makasic, cosa c'è da cambiare in questa Trieste, perlomeno negli ultimi 5 anni? Beh, innanzitutto sarebbe cambiare più di qualche cosa, ma non solamente negli ultimi 5 anni. Noi della Federazione del territorio libero di Trieste rivendichiamo il Trattato di Pace del 1947 che è anche legge dello Stato italiano, precisamente la legge numero 3054 del 25 novembre del 1952 che è anche praticamente garantita dalla Costituzione italiana all'articolo 10 dove l'Italia si impegna a rispettare tutti i trattati internazionali che ha sottoscritto. Pertanto, in parole povere, che cosa significa questo? Significa che i cittadini del territorio libero di Trieste non dovrebbero più pagare tasse allo Stato italiano. Questo anche in virtù dell'allegato decimo articolo settimo. Pertanto, dovremmo avere qui a Trieste la zona franco integrale, il porto franco internazionale, le pensioni detassate e soprattutto via le AC sulle benzina. Collocandovi politicamente, siete verso il centro-destra, centro-sinistra, siete trasversali? Noi siamo una federazione e ci chiamiamo appunto Federazione del territorio di Trieste e quindi noi siamo trasversali perché i diritti dei cittadini non sono né di destra né di sinistra ma sono di tutti quanti quelli che li rivendicano. Una Trieste da cambiare radicalmente rispetto a come è stata guidata in questi ultimi anni? Certamente. La Trieste attuale si sta riducendo in termini di abitanti, si sta riducendo in termini di energie positive che non si liberano e sembrano essere sempre sempre bloccate. e la soluzione che noi abbiamo è quella di cominciare a pensare in maniera internazionale. Pensare internazionale per Trieste significa declinare questo da ogni punto di vista, dalle piccole cose, per esempio del plurilinguismo, per il turismo ma anche per gli abitanti. Significa pensare che facciamo parte di un'unica area urbana, di fatto, che va da Portorose a Ronchi, dalle rive a Sesana e questo va agevolato per esempio con i trasporti. Dobbiamo poi pensare come una città del centro-Europa e riagganciarci al centro-Europa il che vuol dire avere per esempio delle rappresentanze fisse e stabili in tutte le capitali del centro-Europa per far conoscere Trieste, i nostri prodotti, le nostre attività con regolarità. Dobbiamo poi pensare ancora più ampio, prendere quello che c'è di meglio nel mondo, applicarlo alla realtà triestina e poi dobbiamo anche considerare quella che è la legge internazionale sul porto e sul territorio di Trieste che porta vantaggi incredibili per tutti i triestini indipendentemente da idee politiche, da storia familiare. I vantaggi sono talmente grandi che è assurdo non perseguire anche queste leggi internazionali. Sono stati fatti fare dei passi in avanti comunque rivesto questa multiculturalità? No, in realtà Trieste è sostanzialmente statica. I politici continuano a parlare, parlare, parlare. Da anni, decenni ormai parlano di una Trieste miteleuropea che poi non mettono in pratica, parlano di un portovecchio che rimane e rimarrà bloccato a queste condizioni. Noi vogliamo uscire dal paradigma delle parole, siamo un movimento, è una lista civica, nato da zero, completamente al di fuori di quello che è l'establishment di Trieste, completamente al di fuori dalle logiche dell'ideologia, ma pronti ad agire per il bene e solo per il bene di Trieste. Dove vi collocate politicamente? Centrodestra, centrosionista, trasversali? Ma vede, il progetto di Futura nasce dall'essere un movimento assolutamente inclusivo, un movimento trasversale, un movimento che ha raccolto anime diverse, che vengono da storie diverse, ma che hanno capito che in questo momento l'importante è fornire progettualità, mettere a disposizione la professionalità di chi ha già governato per cercare, tutti insieme, non guardando più alle ideologie del passato, di fare, se serve uno, io direi 100 passi in avanti. Nei vostri ipotetici 100 giorni iniziali invece al governo, cosa puntereste a cambiare subito? Guardi, la situazione è abbastanza drammatica anche all'interno della macchina comunale, secondo me, bisogna riordinare subito gli uffici, ci sono tantissimi dirigenti che costituivano praticamente l'asse portante dell'amministrazione comunale che sono andati in pensione e non si è pensato a sostituirli in tempo. Bisogna riordinare uffici importantissimi come quello dei lavori pubblici, che ricordo a tutti, Trieste risulta ancora essere la stazione appaltante numero uno di tutta la regione. Bisognerà operare affinché si blocchi la vendita spezzatino del Portovecchio, cosa che ci siamo appena riappropriati, nel vero senso della parola. Bisognerà dare risposte, perché no, alla piscina terapeutica, a tutta quella gente che aspetta da troppi anni in sofferenza perché hanno problemi fisici. La piscina terapeutica per noi va ricostruita da dove è nata o nell'ambito di quell'area, parlo dell'ex ortofrutticolo. Va dato risposta ai ristoratori e soprattutto al settore ricettivo, alberghiero, a bar, a ristoranti, per l'appunto, togliendo loro latari per tutto il 2022, disponendo un provvedimento che già esiste, ma allargandolo affinché la tosa, povero sia l'occupazione del suo pubblico, non risulti più applicabile per tutto il 2022. Bisogna rilanciare un'economia distrutta da una pandemia, bisogna farlo con coscienza, bisogna farlo con il buon senso e, per esempio, non bisogna farlo con il Green Pass. Vosso movimento è, anzitutto, nazionale o triestino? È un movimento nazionale, nasce nel 2019 proprio da dei genitori che sono battuti per la libertà di scelta. Infatti, 3V significa vaccini, vogliamo verità ed è un tema super attuale, ecco, al momento. Quindi è un partito nazionale. 3V, verità, libertà. Riguardo a Trieste, che proposta ha il vostro movimento? Allora, prima di tutto, il Sindaco è massima di autorità sanitaria del territorio, ha il potere dell'ordinanza e, visto che viviamo in una situazione di straordinarietà in cui la Costituzione e i diritti umani sono definitivamente stati calpestati, vogliamo liberare la città da questa dittatura sanitaria. Per noi è dimostrato che tutto si basa su tamponi PCR che non hanno nessun valore diagnostico, e quindi il Covid si può curare benissimo, come hanno dimostrato medici come il dottor Ramici e il dottor De Donno. Le persone hanno perso la vita a noi ospedali perché hanno applicato protocolli sbagliati, calati dall'alto, da organizzazioni internazionali come l'OMS, piena di conflitti di interesse. Quindi noi, prima di tutto, libereremo Trieste da questa dittatura e poi parleremo del nostro programma sistemico e lo attueremo in tutti i settori, dalla mobilità sostenibile alla questione del Trattato di Pace, quindi la piena attuazione del Trattato di Pace per rilanciare Trieste in chiave internazionale, quindi Trieste deve diventare tutta zona franca e il porto dovrà essere il volano economico come per città come Singapore e Hong Kong per rilanciare l'economia locale. Andremo in direzione opposta ovviamente alle scelte neoliberiste del centro-destra e centro-sinistra per quanto riguarda ovviamente l'incentivazione di grandi distribuzioni organizzate, centri commerciali e multinazionali e la svendita di tutti gli assi strategici pubblici alle multiutiliti come il gruppo ERA. Quindi noi vorremmo servizi e beni 100% pubblici e vogliamo assumerci la responsabilità di governare la città e tutti i beni dei cittadini. Ricordo la terza, questa esperienza elettorale parte da cinque anni fa o quanto ha di quell'esperienza di anni fa riguardo appunto a come cambiare la città? Sicuramente il nostro è un lavoro di lungo periodo, fin dal 2016, da quando a seguito delle ultime elezioni amministrative abbiamo scelto in qualche modo di provare a costruire un modo diverso, di fare politica. Siamo impegnati nei rioni in tutta la città per immaginare un futuro diverso e più accogliente per tutte e tutti noi. Quindi si tratta di un lavoro di lungo periodo che ha messo al centro la partecipazione, pensare a un cambiamento radicale della città nell'economia, nell'ambito dell'ambiente, nel sociale, insieme alle persone e non soltanto per le persone. Siamo convinti che nel 2021, di fronte a delle grandi crisi, quella sanitaria è l'ultima, ma in realtà tante hanno attraversato la nostra città, l'unico modo per intervenire in positivo sulla vita delle persone sia coinvolgerle attivamente nella vita della città. La vostra forza elettorale è più affine a un centro-destra, a un centro-sinistra o è spiegatamente trasversale? Ci siamo rivolti innanzitutto alle tante e tanti che negli ultimi anni purtroppo hanno scelto di non andare più a votare, perché consideravano la politica come una cosa lontana o addirittura nemica delle loro vite. Abbiamo un programma che mette al centro i diritti del lavoro, la tutela dell'ambiente, intesa come opportunità per cambiare gli stili di vita e per migliorare la qualità della vita di tutti, e la sicurezza sociale. Questi sono valori per noi molto attuali. Ci importa in realtà relativamente poco di come vengano categorizzati dalle persone, perché siamo convinti che la disillusione nei confronti della politica si combatte innanzitutto coinvolgendo attivamente le persone nel cambiamento. Riguardo alla guida che c'è stata di Trieste in questi anni, cosa cambiare radicalmente se poteste avere i vostri 100 giorni iniziali? Molto se non tutto. Negli ultimi 10 anni 19.000 triestini e triestini sono dovuti emigrare in altre regioni o all'estero. Questo è un problema non solo per chi se ne è dovuto andare, perché qui non trovava delle condizioni di realizzazione personale, ma anche per chi è arrestato, ed è arrestato molto spesso a condizioni di lavoro non dignitose, o per chi magari ha finito la propria carriera lavorativa in pensione e ha diritto a vivere in una città che non sia una casa di riposo a cielo aperto. Noi siamo stufi e il motivo per cui abbiamo scelto di impegnarci attivamente è che non vogliamo più sentire che problemi del genere vengano considerati dall'amministrazione come non di competenza del Comune. Il Comune ha tantissime leve sulle quali intervenire. In termini di politiche industriali penso per esempio al riuso del Porto Vecchio in chiave produttiva, ma anche per esempio sull'ambiente, penso alla mobilità sostenibile, alla gestione dei rifiuti, alle comunità energetiche che sono una risposta concreta a chi si vedrà arrivare il 40% di aumento dell'energia in bolletta, o alla sicurezza sociale e quindi all'avere dei servizi accessibili per tutte e tutti. Ecco, noi su questo vorremmo concentrarci e siamo convinti che per farlo serva a costruire una discontinuità molto forte, non solo rispetto all'ultima amministrazione, ma rispetto un po' agli ultimi 20 anni di gestione della città. Campagna elettorale per quello che riguarda ovviamente nel simbolo della continuità di quanto è stato fatto e quanto mancherebbe ancora da fare nella prossima legislatura? Beh, abbiamo preso 400 milioni dal recovery plan per quanto riguarda il Porto Nuovo, abbiamo 40 milioni per quanto riguarda il Porto Vecchio. Insomma, il futuro è disegnato su queste due basi, Porto Nuovo e Porto Vecchio. Porto Vecchio, sapete, dopo Barcellona, dopo Hamburgo, dopo Porto Madero, tocca adesso a Trieste, sono 65 ettari sul mare, una grande possibilità di sviluppo. Questi cinque anni passati sono stati cinque anni duri per tutta una serie di fattori esterni. Si spera una tranquillità maggiore per completare cos'altro ancora? No, ma non sono... c'è stata la pandemia, però sai, nel 19 avevamo raggiunto, dopo tanti anni di investimenti, un record di presenze turistiche importantissime. Ti do un dato, al Savoia e Ceggio, sulle rive, calcola che sviluppava un giro d'affari di 9 milioni all'anno. Abbiamo avuto milioni di turisti, poi c'è stata la pandemia, ma abbiamo ripreso la grande prima degli altri. Se venite una sera in città vi rendete conto di quanti turisti, quanta gente abbiamo in città, per cui è un momento decisamente favorevole, più le altre cose che ti dicevo prima, nel senso che ci sarà tanto lavoro. Se c'è lavoro domani presenteremo qualcosa di molto importante con il ministro Giorgetti, un'altra fabbrica che arriva, per cui sai, se c'è lavoro vuol dire stipendi, se ci sono stipendi vuol dire famiglia, se c'è famiglia vuol dire aumento della popolazione e star bene. All'opposizione invece cosa dire per eventuali 5 anni prossimi che la vedono alla guida? Insomma io sono 20 anni che faccio il sindaco di cui 15 a Trieste, conto di raggiungere il record dei 25, all'opposizione gli dico buon lavoro. Per proposito di lavoro c'è la questione anche del turismo, delle grandi navi, di una Venezia che ha delle sue difficoltà, ovviamente appunto delle nuove organizzazioni che potrebbero dare vantaggi a Trieste. Beh in questo momento arrivano navi su navi a Trieste che portano moltissima economia perché comunque sono migliaia di persone che sbarcano in città e io dico sempre anche se prendono un caffè vuol dire economia, moltiplicato migliaia di persone in effetti rendono molto di più. Sguardo su Trieste innanzitutto, cosa c'è da cambiare principalmente o c'è qualcosa da mantenere anche di questi ultimi anni di governo? Allora, la nostra città è sicuramente bellissima, bisogna mantenere quelle che sono i beni architettonici, la storia e i beni comuni di questa città. Sicuramente da cambiare moltissimo perché nel programma della Giunta che oggi sta operando su Trieste non c'è mai stata la parola ambiente. Noi come ambientalisti logicamente nel nostro programma abbiamo soprattutto la parola ambiente. Oltretutto c'è anche una Germania che sta dando delle indicazioni molto forti, può esserci una spinta che arrivi fino a qui? Tutto il nord Europa sta dando questo segnale di questa onda verde che lo pervade. Noi come Trieste, quindi una città mitteleuropea ma anche nord europea, vorremmo arrivare anche noi a questi livelli. Per questo abbiamo deciso di candidare una donna, cioè hanno candidato me e nello stesso tempo anche abbiamo deciso di correre da soli come verdi proprio per mostrare il nostro simbolo e la nostra vicinanza a quella che sono i movimenti europeisti verdi. I punti essenziali per la vostra battaglia qui a Trieste? Allora, noi abbiamo una coalizione che è fatta da verdi Trieste e Sinistra in Comune, quindi abbiamo un movimento cosiddetto rosso-verde che è quello che tutto sommato sta creando questa ondata rosso-verde in Europa. I punti principali derivano dai due partiti che lo compongono, ossia una nota fortemente ecologista, quella dei Verdi, una parte invece molto sul sociale derivata dalla sinistra in Comune. Ogni candidato fino a questo momento ha parlato sempre del Porto Vecchio come punto nodale. Anche dal punto di vista vostro c'è qualcosa di particolare da promuovere per questa notte? Allora, il Porto Vecchio è una delle parti di Trieste su cui si sta promettendo troppo. In realtà può essere fonte di speculazione, proprio perché i fondi europei verranno su progettazioni che hanno a che vedere con qualcosa di ecologico e intanto tutti stanno promettendo. Io credo che invece di pensare a ruote panoramiche, ovovia, particolari palazzi super dotati con porti per ricchi, bisogna riqualificare la città nel suo insieme proprio riguardando gli spazi vuoti, gli spazi pieni e gli spazi esterni anche come risorsa e proprio qui ci rimettiamo sempre il verde. Francesco Russo, in una Trieste che cosa deve cambiare dopo questi cinque anni ultimi? Trieste è davanti a un bivio, davanti a un bivio perché è una città bellissima con grandi opportunità date dalla centralità economica, geostrategica, dal rinnovato interesse dei grandi traffici internazionali, ma è una città che ha perso 30.000 abitanti negli ultimi 30 anni, è una città che vede i suoi giovani migliori andare via, è una città che rischia di spegnersi nella sua bellezza. Quindi il cambio è per avere una classe dirigente nuova, capace di sfruttare fino in fondo le opportunità che ci vengono dalle grandi risorse europee che stanno arrivando in Italia. 300 miliardi nei prossimi anni, dobbiamo fare in modo che atterrino anche a Trieste, ma per fare questo servono competenze nuove e non chi è diventato sindaco come Roberto Di Piazza per la prima volta nel 1996. Io darò il via a tre grandi operazioni, la prima una società di gestione che rifaccia partire le operazioni di Portovecchio, un'area che vale 2 miliardi di investimento, ma che oggi ha mandato via gli investitori potenziali perché non c'era una struttura amministrativa all'altezza di quella sfida. E poi la città metropolitana, Trieste, deve tornare capitale d'area. Per la prima volta ho candidato nelle mie liste degli italiani della comunità dell'Istria croata. Il senso di un territorio che guarda questa città e di una città che comincia di nuovo a pensare internazionale. Nuovi confini? Sì, Trieste è stata grande quando nel 700 e nell'800 ha saputo attrarre investimenti, talenti, giovani, persone di cultura. Io ho un'ambizione di finire il mio primo mandato tra cinque anni, potendo dire che per un giovane italiano, che sia calabrese o ligure, un giovane europeo, francese o lituano, Trieste è tornata il luogo delle opportunità, il luogo dove andare per giocarsi le proprie chance, i propri sogni. Per un giovane ricercatore, per un esperto di logistica, per un artigiano cui daremo gli spazi che oggi sono vuoti anche in centro città o per un giovane agricoltore che vuole aprire una fattoria didattica. Ultimi cinque anni a Trieste c'è molto da buttare, molto da tenere, cosa c'è da fare? Beh, Trieste è una città secondo me speciale, ha un sacco di potenzialità che in questi cinque anni non sono state valorizzate. È stato consumato tutto il suolo e quindi abbiamo invece che avere una città verde, abbiamo una città cimentificata. È stata mortificata anche la cultura, non c'è stato dato attenzione in maniera adeguata ai bisogni della gente. Ecco, noi vogliamo cambiare. In che modo? Quanti punti avete particolari del vostro programma? Noi abbiamo cinque punti del nostro programma che cercano di sintetizzare quella che è la nostra visione, il nostro progetto per Trieste. Noi riteniamo che Trieste debba essere una Trieste policentrica, organizzata, una Trieste competitiva, una Trieste tutelata e una Trieste godibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo dare a tutte le realtà, le componenti della nostra città che siano borghi, paesi, comunità, centri di ricerca, sono tutte componenti di questa grande Trieste. Vogliamo dare il giusto peso, vogliamo valorizzare, vogliamo creare sinergia e quindi per noi questo è il punto di partenza. Lo vogliamo fare con una città organizzata, con una macchina comunale efficiente e vogliamo Trieste in testa. Trieste in testa per la cultura, Trieste in testa anche per tutto quello che comporta il lavoro, l'industria, le piccole imprese. Poi non lo possiamo fare senza tenere da conto quelle che sono le cose da tutelare, il patrimonio ma anche le persone, il verde e gli animali. Vogliamo poi una Trieste che sia godibile, godibile da tutti e fruibile, fruibile da tutti. Da quale partirebbe innanzitutto, in un'ipotetica, i cento giorni iniziali del suo nuovo governo? Beh sicuramente per noi bisogna sempre partire dall'ascolto. Quando si parte dall'ascolto si vanno proprio a costruire le risposte pensando alle persone, pensando alle realtà, pensando alle imprese. Non si può prescindere dall'ascolto. Poi dobbiamo assolutamente organizzare la città in modo che possa essere attrattiva per investimenti e per fondi e quindi dobbiamo pensare anche alla macchina comunale in modo che abbia le risorse, assunzioni di persone ma anche la possibilità di essere molto più efficiente.